Grazie! Grazie, con la segnata andiamo a poterci questa splendida finale. Primo ballo per voi, Samba. Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie! 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 68, Marita Fuoco, Giacomo Mallarin, dal Veneto, New Stars ASD. La Rumba in quinta posizione, Ciaciaciaccia in quarta posizione, tre balli in terza posizione. Seconda classificata da coppia, numero 79, Nicolio Ineo, Luca Varti, dal Veneto, Garna Danzi. Tre balli in seconda posizione, Ciaciaciaccia e Rumba in prima posizione. Si aggiudicano la sesta prova di campionato italiano 2012, per le danze latine a 14-15 anni in classe A, gli atleti. Teresa Nese, Antonio Tattoli, numero 180, dalla Puglia, Passione Danza, Molpetta. Due balli in seconda posizione, Samba, Pasadone, Drive, in prima posizione.